salve a tutti ragazzi qui è blati della gang del tubo e anche oggi ci troviamo su naruto ultimate ninja storm 4 la scorsa volta abbiamo giocato la parte dove sasuke interrova yokage per sapere tutto sul villaggio della foglia per capire le motivazioni del fratello e perché ha deciso di proteggerlo a costo della vita ora ci sono abbiamo sbloccato due capitoli ovviamente il capitolo finale della saga di sasuke e il capitolo dove questo qui dovrebbe spiegare in pratica come a shirama e madara desideravano il villaggio quindi andiamo subito a giocarlo un po' Pag. Non è vero. Ma... Tu sei davvero un uomo. Tu sei... Per il mio figlio, per il mio figlio, e per il mio figlio, e per il mio figlio. Non è vero. 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 È vero. È vero. Mi sono andato qui. Ma... Qu'è un'ersione? Qu'è il terzo? Qu'è il terzo questo? Qu'è il terzo? Qu'è il terzo? C'è un'errore di un'errore? Che cosa? Mi sembrava che mi sentiteva un giusto, ma... Non c'è il fatto che io sono davvero... Il tuo giusto, il tuo giusto è il tuo avuto. In questo momento, il tuo figlio di sato di sato, e il tuo figlio di sato di sato. E il tuo figlio di sato di sato, il tuo figlio di sato. Non c'è, non c'è quello che io. Il tuo sogno è non importa, ma non c'è il tuo sogno. Cosa! Non mi piace! Non mi piace, non mi piace. E anche questo giusto. No, non è vero. C'è un po' di chiudere, che è un po' di chiudere, che è un po' di chiudere. Grazie a tutti. 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 Ma l'ho preso subito. Guarda quanta vita che c'ho. C'ho preso anche lui. Tutti c'hanno un bordello divino. Guarda tutte barbe di energia. E' un po' che velocissimo personaggio è un qualcosa di veramente assurdo. No, non posso evitare. Ok. Così è difficile evitare gli attacchi senza qualcosa di assurdo. No, madonna mia. I danni che mi ha fatto Topiram. Ehm... 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 Stai attento. Stai attento. Stai attento. Stai attento. Ok, quello l'ho preso adesso. Stai attento. Stai attento. Stai attento. Attento. Ma... Cosa... Evito Preso Vai 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 Ok 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 Oddio Ok evitato Evita 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 Però ti ho preso sta volta Sì ma non funziona non capisco perché Vai ecco Ok ci carichiamo Eccomè Non funziona la mossa finale Non capisco il perché di questo Ok 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 Evitalo evitalo Ok come metti Wow Madonna E... Perché non mi fai evitare ok 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 allora siamo attenti carichiamo il 10 chakra no non gli funziona la mia massa finale ok è finito è e e e e e e Non lo so, non lo so! Amatras! Ok! Abbiamo fatto tutto perfettamente, l'abbiamo fatto Ok Vai 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 Ok 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 Sì, abbiamo fatto male parecchio al primo Kage, vabbè ma Sasuke è fortissimo. Sì. 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 Sì.